A scuola si va a piedi e ben lo sanno le migliaia e migliaia di alunni che ogni giorno a Lecco e nel circondario prendono il piedibus per andare in classe. Alle scuole superiori però cambia tutto, tanti studenti usano la moto e più grandi addirittura l'auto. Per cercare di incentivare la mobilità sostenibile anche fra gli adolescenti, il comune di Lecco ha promosso insieme a Lega Ambiente una gara fra scuole. Lunedì 27 febbraio è partita infatti la seconda edizione della High School Mobility Challenge. Si tratta di una competizione tra le classi delle scuole superiori lecchesi dove studenti e docenti si sfidano tracciando i propri spostamenti sostenibili e concorrendo alla vittoria della propria squadra. L'iniziativa lanciata dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento vede oggi coinvolti 700 studenti, 4 istituti e 33 squadre, due delle quali di soli docenti. Le scuole che hanno aderito quest'anno sono il Liceo Manzoni con 16 squadre, l'Istituto Badoni con 9, l'Istituto Parini con 7 e il Bertacchi con una squadra. I cittadini e soprattutto i giovani, dichiara Renata Zuffi, assessore all'ambiente del comune di Lecco, sono già pronti a un cambio di passo in questa direzione. Quello che occorre fare è offrire loro occasioni come questa per poterlo mettere in atto. Nonostante la competizione sia già partita, è ancora possibile iscriversi fino alla conclusione del progetto prevista per il 28 maggio. Per chiarimenti è possibile prendere contatti con la segreteria organizzativa di Le Gambiette Lecco.